Allora stiamo registrando, quindi riassumo solo brevemente l'idea di stasera era quella di vedere un esercizio che era stato dato al Godot, uno degli ultimi, e che Annalisa aveva provato a fare ma che non era riuscito a fare. Quindi io volevo stasera presentare un metodo che dovrebbe essere uno dei più semplici, cioè quindi in realtà ho visto che avete tutti un po' di difficoltà a costruire gli script da zero e quindi l'idea è quella di sfruttare degli script già fatti e quindi l'idea è quella di farvi vedere come partire dal file, il blend, che ha fatto Annalisa, editarlo in Blender 2.8, così vediamo anche un pochino di Blender, vediamo come renderlo il più semplice possibile e scaricarlo in formato collada e a quel punto andare in Godot e partire proprio da zero su quel progetto però avendo aperto un progetto che abbia già invece uno script funzionante. Quindi l'idea di vedere anche come iniettare una scena di un altro progetto dentro un progetto nuovo, che è una cosa che mi sembra di capire che GbProf più o meno sapeva fare, che però appunto se chiediamo alle persone di costruirlo da zero diventa lo script pur con tutti i video che ho fatto diventa un casino. Quindi l'idea è quella di, il motivo per cui registro anche questa sera è che poi voi possiate tornare su questo video e rivedervi i pezzi, perché stiamo, se no è facilissimo perdersi, quindi cercherò di essere il più sintetico possibile. Allora, la prima cosa che ho fatto, ho scaricato un boscoincantato.zip che credo che sia un, che tu avevi messo su Google Classroom. Sì, però dovresti condividere il tuo schermo. Lo sto condividendo? Sì, no, ora sto leggendo questo documento. No, no, adesso stavo facendo vedere che c'è il boscoincantato, boscoincantato.zip dentro c'ha una serie di pezzi dove c'è il tuo progetto, ma io di questo progetto prenderò soltanto il boscoincantato col.blend, no? Questo qua, perché è quello da cui sei partita. Quindi io prendo solo quello e cerchiamo adesso di editarlo in Blender. Quindi io ho preso quello, in realtà l'avevo già fatto prima, quindi sto cercando di farlo per rendere non troppo lunga questa procedura, me lo sono già scaricato qua sotto una cartella, boscoincantato col.blend. E adesso questo qui lo vado, apro un Blender, questo, tra l'altro lo stavo vedendo, poco fa c'era, come si chiamava, Marlok, ma ha chiesto una cosa sul Bevel, ma lasciamo un attivino via. Quindi qui facciamo un nuovo progetto, General, di Scar Changes. Quindi partiamo da zero e qui ci mettiamo il tuo punto blend. Il punto blend, che è questo boscoincantato, punto col, lo trasciniamo direttamente dentro il punto blend e lui ce lo apre. Quindi lo apre e abbiamo questa cosa qua. Ti ritrovi, giusto? Sì, sì, sì. Ok. Allora adesso, tra l'altro, il nuovo Blender 2.8 mi piace perché è già tutto bello coloratino sulla destra. E quindi, diciamo, io che sono dislessico, già mi aiuta un po', no? Qui però ci sono un sacco di cose che tu hai messo che in realtà a Godot non interessano, no? Ok. Tipo queste camere, queste lampade non servono. Quindi io la prima cosa che farei è prendere tutti questi oggetti, con lo shift li seleziono e poi tasto destro li cancello. Giusto per ottenere una versione pulita, molto pulita di quello che hai. Tra l'altro, ecco, nel tuo caso qui è abbastanza fatto bene. In altri casi ho visto che delle persone mi facciano vedere una mesh con dentro migliaia di altre cose, no? Meno male, almeno una cosa l'ho fatta bene. E no, infatti era un casino, infatti molti progetti che avevo provato a mettere erano difficili, nel senso che poi per riuscire a renderli come questo, cioè piatti, cioè praticamente dentro tu hai la mesh e dentro hai, per dire, un piano, no? E poi sotto ci sono tutti i materiali che usi, no? Sì, qua in realtà uno volendo potrebbe obiettare che ci sono troppi materiali, ma comunque va già bene così, insomma. Nel senso che di solito si cercano di averli, di riciclarli, no? Cioè qui ce ne sono, lo dice lui, sono 28. In realtà probabilmente i colori che usi sono un po' di meno, ne basterebbero forse 5-6. Ah, sì, sì, certo, è vero. Anche questa è una cosa che non ho capito bene come si fa, vabbè, ma comunque questa è una cosa... Ma poi magari alla fine, se rimane tempo, lo possiamo vedere per riciclare i materiali in Blender, come si fa. Comunque per il momento va benissimo così. Quindi abbiamo una collezione, questa. Allora, qui tra l'altro, in Blender 2.8 c'è finalmente questa possibilità di disabilitare, cioè le collezioni sono un po' come i layer di Photoshop, non so se avete visto, cioè nel senso che tu puoi avere n immagini, cioè n cose 3D e poi selezionare quello che vuoi. Quindi quella che ci interessa a noi adesso è questa collection, mi chiamo collection, dove c'è il tuo bosco incantato, no? L'ho solo cliccato qua praticamente per dire. Perché la collection 1, che è questa qua sopra, invece era quella di base, dove c'era una camera, una lampada, che però non ci interessano, no? Quindi io prendo proprio solo la collection 2, questa, e provo a esportare direttamente questa in formato collada, no? E per farlo vado su file, facciamo export collada. E qui c'è un bosco incantato, tu l'avevi messo coll perché io in uno dei miei video mi hai detto che bisognava salvarlo coll in qualche modo. In realtà quello che volevo dire non era salvarlo coll qua, ma avere la mesh che si chiamava coll, però ho visto che si può fare lo stesso senza tutta questa complicazione. Basta salvarlo .dai e basta. Quindi dimenticate il .call che non è necessario, quindi una complessità in meno. Potete chiamarlo bosco incantato, sal o quello che è. Non ha importanza come lo chiamate, no? Ok. Però, visto che l'abbiamo selezionato questa cosa, diciamo che export collada, gli diciamo selection only, e credo che basti, perché poi forse play modifiers, no? Praticamente le cose che servono sono, diciamo che esportiamo solo ciò che abbiamo selezionato, no? Qua sotto. A questo punto abbiamo bosco incantato sal.dai, facciamo export collada, ecco, no object selected, quindi dobbiamo selezionare il nostro oggetto, da qua, quindi ripetiamo, export collada, selection only, ok, bosco incantato sal, di nuovo, purtroppo non si ricorda, .dai, l'abbiamo messo qua, facciamo export collada. E lui adesso dovrebbe averlo esportato. Quindi nel posto dove l'ho messo è comparso un bosco incantato sal.dai, questo. Questo dai è molto vicino al punto blend originario, no? È leggermente più piccolo perché gli abbiamo tolto le camere e le luci. Ah, sì. Però sostanzialmente è uguale il punto blend. Ora a questo punto quello che rimane da fare è quello di importarlo dentro Godot. Quindi prendiamo... Beh, prima ancora di importarlo dentro Godot, vediamo se abbiamo un progetto tipo il gatto saltellante. Tu il gatto saltellante l'avevi scaricato? No. Allora, ti faccio vedere come si poteva scaricarlo. Quindi se tu vai su GitHub Sarazar, qui mi sembra che avessi fatto un reposito e poi ti rimetto il nuovo link e comunque c'è il Godot. Questo qui l'avevo messo nel classroom e c'era questo... Quindi questo è il link, te lo passo sul chat, se per caso... Ok. Praticamente se tu clicchi lì sopra, non so se lo riesci a fare in tempo reale... No, perché sono... Ok, ora ci provo. No, vabbè, non è importante, basta che lo... Cioè, è chiaro che se lo fai adesso è facilità a farlo, bene, ma se ti crea casino è meglio che mi segui, no? No, perché sono con due computer, perché volevo provare a fare... Mentre tu spiegavi volevo provare, però preferisco concentrarmi solamente su una spiegazione, poi lo faccio dopo. No, questo io l'ho fatto vedere al corso, nel senso che qui tu puoi fare un download zip. Non so se si vede della cosa... Una volta che vai lì, tu trovi Salaz Godot e qui ci sono tutte le cose, qui c'è il famoso Hopping Cut. Comunque tu fai download zip, ti scarica una cosa che è un pochino grossina, perché ci sono tutti questi progettini, no? Però sarà un 100 mega, 42 mega sono. Prendi questa cosa, godotmaster.zip si chiama, e poi l'unzippi e dentro c'è un godotmaster e poi dentro c'è anche un Hopping Cut. L'Hopping Cut è il progetto che ha proprio il gattino che si muove. Sì, sì, me lo ricordo. Ok, allora adesso in realtà l'ho già fatto, questo progetto, quindi devo, una volta aperto, quindi praticamente questo qui, facciamo che usciamo, così lo rivediamo dall'inizio. Praticamente se noi lanciamo il Godot, vabbè in questo caso c'è la 3.1.1, ma dovrebbe essere... C'è la 3.1.1 l'ultima stabile che è uscita il 27 aprile, quindi solo per questo che l'ho messa. La versione precedente era uscita un mesetto prima. Comunque se voi lanciate la versione stabile di Godot e poi gli dite di importare un progetto e poi sfogliate, andate a vedere dove l'avete caricato. Io l'avevo messo sotto G, W, Godot e poi qua dentro c'era il Hopping Cut, quindi che qui avevo unzippato. E poi cliccate su project.godot, quindi si apre l'Hopping Cut. Importa, quindi importa il progetto e qui c'è l'Hopping Cut famoso che avevo fatto vedere che c'è tutta una struttura complicata a piacere. Faccio vedere brevemente che funziona, quindi faccio il play del progetto e qui praticamente si vede questo gatto che salta e poi se premi le W si muove. E c'ha anche uno sfondo, che tra l'altro magari metto anche questo sfondo nel tuo progetto così facciamo una cosa complicata. Però no, complicata, più che complicata è bellina da vedersi, no? Vedi che qui ci sono ombre, c'è luce, eccetera. Ma noi, più che altro, vedi che c'è questo gattino che si muove, che fa, che trita, no? Sì. E che muovendo il mouse fa tutto il suo mestiere, no? Poi in realtà sopra c'è anche un'altra cosa che si vede, ma non la mettiamo. Quindi lo usiamo questo solo per copiare dei pezzi. Quindi insegniamo come si fa a copiare da un progetto a un altro. Che non è banalissima, però ci tenevo a farlo insieme a voi, a te soprattutto, in modo tale che se non fosse chiaro, no? Lo vediamo, lo risolviamo, o cerchiamo di risolverlo durante questa registrazione. Invece che io faccio la registrazione e voi le subite, quindi cerchiamo, vediamo se riusciamo ad essere interattivi. Allora, quindi creiamo un progetto ex novo e per creare un progetto ex novo lanciamo, io cosa faccio da qui? Rilancio Godot un'altra volta. Tu hai Mac, credo che sarà molto simile, nel senso che lanci l'app due volte dovresti poterlo fare. Sì. Comunque io lo rilancio qua, quindi ho un secondo Godot, no? Sì. E in questo secondo Godot posso, cioè quindi praticamente ho un Godot che praticamente lavora con il vecchio, cioè con il gatto, e poi faccio un nuovo progetto. E in questo nuovo progetto lo posso creare dove voglio, ad esempio questo qui lo chiamiamo registrazione, che sta sotto user pacchio documents, gli facciamo nome progetto, facciamo crea cartella, quindi lui crea una cartella che si chiama così, dove gli avete detto. Questo è chiaro, il modo in cui si crea un progetto? Senti, ma quelle lettere che tu metti all'inizio C, G, poi i due punti e poi lo slash, no? Dove vuoi destinare i tuoi documenti. Allora, e questa è una cosa che varia a seconda del tuo computer. Di solito tutti i computer che sono distribuiti adesso, facciano C. C vuol dire il disco, è una cosa, qui ci sarebbe da fare tutta un discorso di archeologia, diciamo, su come sono nati i computer, no? Nel senso che i primi computer sono nati senza dischi, poi gli hanno cominciato a metterci i floppy disk, i floppy disk li chiamavano A e B, e poi quando hanno cominciato ad uscire gli hard disk li hanno chiamati C. Quindi adesso, per convenzione, quel C vuol dire l'hard disk. Ah, ho capito. Vuol dire il tuo disco fisso. Sì, sì, sì. Ecco. Io poi, se tu aggiungi altri dischi al tuo computer, cosa che io faccio normalmente, gli dai delle lettere. Quindi io ho un secondo hard disk più grosso, che si chiama G. Ho capito, ho capito. Quindi è la seconda che io voglia mettere sul disco C del computer, o G, l'altro secondo disco che ho aggiunto e metto C. Però se tu non hai lavorato col tuo computer, non hai fatto cose strane, a te sarà sempre C. Sì, va bene. Oppure addirittura, forse si può anche non mettere, se tu c'è un disco solo, puoi dire semplicemente barra Iusus. E poi questo qui è il sentiero, ovviamente dove il PAT, cioè la cartella. Sì, sì, sì. Ecco, tra l'altro, tu avendo il MAC, tu non avrai questo C. Eh, no. Tu però avrai, partirai direttamente, avrai un PAT leggermente diverso, ma se tu conosci come fattore, sarà sempre tipo slash, ecco, GbProp sarà slash users, anche lui. Sì, users. Forse minuscolo. E poi alla fine sarà relativamente simile. Sì, 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 certo. Ok, quindi il C vale per Windows? No, no, era per capire se mi potevo creare anch'io, quindi dipende dall'hard disk, quindi se io aggiungo un hard disk esterno, per esempio... Ma per Windows questo vale, per me che adesso mi è avuto in mente mentre te lo spiegavo. Te l'ho spiegato perché se tu lo trovi in giro, sappi che da Windows esce fuori questa cosa. Sì, ma lo ricordo che con Windows c'era questa possibilità, ecco. Ecco, però con Mac avresti messo soltanto quello. Allora, scrivo registrazione, quindi facciamo crea e modifica, e quindi lui crea un progetto vuoto e lo apre. Ok? Adesso partiamo da questo progetto vuoto. Ecco, questo secondo me è proprio la cosa più semplice perché adesso gli mettiamo gradatamente le varie cose dentro. E così vedete anche poi il metodo per mettere le cose dentro, cercando di confondersi il meno possibile. Allora, qui a sinistra, e questo a questo punto diventa quasi uguale anche in Mac, ci compare una struttura nel progetto dove c'è un default em, un icon pg, e noi però possiamo fare tasto destro e poi aprire nel finder, nel caso tuo, in cui apre il posto in cui c'è il progetto. Quindi non devi neanche andartelo a cercare sul disco perché puoi accedere da questa finestrella. E qui vedi che adesso qui non c'è niente praticamente. Sì. Però ci sono due dei filetti abbastanza importanti. Icon png è l'icona che lui usa per visualizzare il tuo progetto. Project.godot diventerà un po' importante tra po', che poi ti farò vedere, perché qui c'è scritto anche la mappatura dei tasti, che era una delle cose che a te mancavano. E quindi lo vedremo che bisognerà farci un lavoretto quando poi si importa. Ma lo facciamo adesso un po' per volte. Allora, per chiarezza, io direi che quando si importa una cosa già complicatina, come quella che hai fatto tu, conviene creare una cartella, no? E questo lo chiamiamo, per esempio io chiamavo assets, però tu puoi chiamarlo bosco, ad esempio, no? Sì. E tu chiami bosco, allora vai dentro bosco e qua dentro ci copi il collada che hai generato. Quindi, vediamolo qua, vedi che c'è bosco incantato sal, che appunto dai vuol dire che collada, lo prendi, lo trascini e lo metti lì dentro. Ok. Allora, quello che succede in realtà è che non appena va in Godot, lui se lo capisce, che gliel'hai messo, e genererà una serie di cose mostruose qua attorno. Sì, sì, sì. Però le abbiamo, sì, però le concentriamo e le facciamo tutte, che se le nasconde tutte lì dentro. Ok. In modo tale che nel progetto non creino, diciamo, confusione, più di tanto confusione. però non lo fa finché tu non entri in Godot. Cioè, non appena tu entri in Godot qua, lui vedi che ha fatto quella cosa là. Sì. E in realtà cosa ha fatto? Ha preso quello che c'era in bosco e gli ha scatenato tutti i file sotto, che sono i materiali. Sì, sì, sì. I 28 materiali. E in più ha fatto un bosco incantato, sal.da è questo. Ok. Allora, a questo punto bisogna prendere quella scena, che vedi che c'è il simbolo di scena. Sì. Quindi se tu questa scena la apri, apri scena, forse anche doppio clic lo fa. Ecco, allora lui dice o puoi aprirla comunque oppure fai nuova ereditata, perché ne fai una copia, in pratica, di quella scena. E io direi di prendere il default. Quindi la prima, cioè tu la apri e lui ti apre la scena. E vedi che tra l'altro la scena te l'ha aperta e te l'ha messa sopra, no? Sì. Allora qua il consiglio che faccio io e sopra ti ha messo il bosco incantato dentro la scena root, questa qua, no? Sì. Allora tu clicchi il bosco incantato e poi visto che vedi che è sollevato da terra, perché evidentemente su Blender era fatto un po' più alto, no? Sì. Conviene averlo tutto abbassato all'origine, cioè praticamente vedi qui sulla destra quando l'hai cliccato sotto transform ci sono la translation che non è zero. Se tu clicchi questo pulsantino qua, lui l'aria zera e la mette tutto al centro degli assi. Ok. Quindi l'abbassa. E la suggerisco di fare questo in modo tale che sia diciamo normalizzato, no? Anche i colori però sono cambiati perché il prato verde non si vede e alcuni rami degli alberi che erano rossicci, diciamo, sembrano marroni come i tronchi. Ma può darsi qualche materia... Comunque adesso questo qui magari lo affrontiamo in un secondo e se adesso vediamo un po'... Sì, sì, no, va bene. Era perché siccome anche a me mi... Anch'io lo vedevo così e mi disperavo perché dicevo ma perché non si vedono i colori? Vabbè. Quello lo analizziamo poi... In effetti adesso me lo fai notare non è una cosa da approfondire. Vabbè, vabbè. Lo facciamo fare come esercizio a Emanuele. Era un particolare, non è una cosa... No, no, vabbè, ma giustamente inseguiamo. In realtà c'è anche un'altra cosa che GB Prof avrà notato perché ci ha sbattuto il naso anche lui. Vedi che riflettono tutti questi colori. Come riflettono? Vedi che c'è un riflesso. Ah, sì, sì. Ecco, questo è abbastanza brutto perché quando poi ci andai dentro sembrano che siano degli specchi queste cose. Quindi sono poco realistici. Quindi poi vedremo anche come risolvere questo problema che con Gianfranco l'abbiamo visto ma era un po' particolare. Però anche quello è un altro di quei problemi che lascerei, diciamo, in secondo piano rispetto al fatto di far muovere il gatto. Quindi per il momento adesso ci contentiamo, insomma, di vederlo anche se è bruttino. Allora, la sfera abbiamo fatta, però la cosa importante è che dobbiamo metterci anche la collision mesh perché se non c'è la collision mesh non funziona, no? Non si può poi fare tutto il discorso. Quindi andiamo, avendo selezionato il bosco, andiamo qua su mesh e gli diciamo di creare un corpo statico trimesh che avevo fatto vedere, mi sembra, nei video. E se va tutto bene, quello che succede, vedi che sono comparse tutte delle righe. Sì. Ecco, quando scompaiono quelle righe vuol dire che ha funzionato, no? Cioè che lui riconosce che quelle sono le forme su cui si collide. In una delle cose che mi avevi mandato, in effetti ho visto che mancava la collision... Non l'ho mai fatta questa cosa di trimesh. Eh, ma è quello, è una cosa che... Invece mi sembra che... GVProf, mi sembra che lui lo facesse, almeno io l'ho fatto vedere parecchie volte nei video, questo della trimesh. Vabbè. Nel senso che... Il concetto è questo, che se tu non vuoi fare così, puoi mettere una mesh in Blender e chiamarla trattino col. Allora quella lui la usa come mesh di collisione, no? Però visto che questa cosa qua è un po' complicata da concepire, no? Allora io suggerirei di farlo così, cioè di fargli creare la mesh di collisione con questo trucco, no? Ok. Che consente di semplificare il modo in cui lo esporti da Blender. Visto che... Hai visto che noi su Blender abbiamo semplicemente... Si siamo limitati solo ad esportarlo, non abbiamo fatto niente. Sì, sì. E non abbiamo dovuto cambiargli nome, quindi per potergli non cambiare il nome abbiamo dovuto inserire questo... Ah, ecco, Jimmy Prof dice che lui in realtà il trattino col lo fa sempre, no? Se lui parte con un trattino col gli arriva la mesh direttamente dentro, no? Cioè questa mesh di collisione non deve farla. Però tu, secondo me, fai prima a farlo così, no? Come sto facendo vedere. Quello che ti avevo mandato io, però c'era il trattino col. Poi l'abbiamo tolto... L'hai tolto e ci hai messo... Tante è proprio il nome della mesh dentro. Va bene, va bene. Avrò capito male io. Cioè se tu cambi solo il nome del file non ce la fa a prenderlo. Va bene. Comunque tu segui quest'ultima cosa che ho detto che se vuoi è una novità, ma in realtà io l'ho fatta anche vedere in alcuni video, che secondo me per chi impara è più semplice che non esportare quel .call. Invece Jimmy Prof, che lui ormai è diventato un esperto di questa cosa qua, lui può usare l'altra. Lui è abilitato. Ok. Una volta che hai questa... Ti sento un po' deficiente comunque. Beh no, stai imparando. Jimmy Prof, lui sta facendo queste cose da anni, l'ha fatta con iFidelity. Ah, va bene. Cioè non puoi confrontarti con lui. No, no, no. Io non mi voglio confrontare con nessuno. No, poi lui non... Solo con me stessa mi confronto. Evidentemente non ho pratica con questa tecnologia. Anche se insegno agli informatici e parlo di informatica in inglese tutti i giorni, però ci vuole... Eh, ma lì appunto ci va pratica, nel senso che se lo fai... Cioè io stesso queste cose qua, prima di farvi la lezione stasera, me le sono rifatte tutta un paio di volte oggi. Perché... Ma credo che anche voi facciate lo stesso quando poi insegnate i vostri allievi. Cioè... Nel senso che è chiaro che nella lezione devi avere la minor quantità possibile di... di... No, perché se no... Eh, certo, sì, sì. Induci confusione. Questo io non lo potrò insegnare mai, perché non mi sento proprio capace, non mi sento pronta per poter maneggiare questa cosa. No, no, capito. Ma stavo dicendo che io appunto me lo sto studiando, quindi me lo... Sì, sì, sì. E sono cose che comunque se non fai tutti i giorni poi dopo ti confondi, ti dimentichi. Eh, sì, sì. Eccetera. E poi tra l'altro oltretutto anche Godot come anche Blender cambia tutti i giorni anche lui. Quindi ci sono delle cose che... Comunque senti, allora abbiamo fatto questa cosa qua, no? Ora a questo punto che abbiamo questa scena qua, questa scena magari la salviamo e la salviamo contro l'S perché vedi che dice non salvata. Sì. Allora la salviamo contro l'S e la chiamiamo main che sarebbe la scena principale, no? In inglese. Perché poi la lanceremo questa. Ora la cosa interessante è andare nell'altro progetto e rubare praticamente la scena del player. Sì. Il gatto, no? Ok. Quindi vado nell'altro... Questo qui dove c'era il gatto e qui vado a cercare di capire dove era il gatto. Allora qui vedi che di gatto c'è una scena del gatto, c'è un gatto.gd, no? E in realtà c'è anche un modello del gatto, no? Policat.dai. Cioè questi sono i tre pezzi che sono. Qui c'è lo script che lo fa muovere. Il .gd è lo script. Policat.dai è l'immagine del gatto con le sue animazioni. Ok. E in realtà poi ho scoperto oggi che questa scena qua in realtà citava anche uno sky perché c'era quasi sotto, c'è un cielo. E quindi per poter rubare da questo oggetto devi rubare praticamente il modello dove c'è il gatto, no? C'è tutta questa cartella. Lo sky è giusto perché lo riferisce, se no se vuoi ti faccio vedere cosa succederebbe se non metti lo sky, nel senso che prendi il gatto.gd e il gatto.tscn, questo, però lo facciamo direttamente dal finder praticamente, nel senso che tu hai due cartelle di finder dei due progetti. Aspetta, dove? Quindi tu hai una cartella dove c'hai il hopping cat, no? Sì. E poi ti fai un altro finder, nel tuo caso, dove invece metti il tuo progetto nuovo, registrazione. Qui è comparso bosco e qui sappiamo che dobbiamo importarci questo, cioè facciamo questo più questo, lasciando del gatto e più ancora il modello. Dentro il modello c'è il gatto, come abbiamo visto prima. Quindi selezioniamo queste tre cose, e vabbè, anche il cielo, visto che lo vuole. Quindi tu copii tutte queste cose qua, fai copia e le incolli qua. A questo punto quello che è successo è che qui c'hai anche la scena del gatto, esattamente come c'era nell'altro progetto. Quindi hai riutilizzato il gatto e l'invariamento circostante. Ok. A questo punto, se tu torni nel tuo... Vedi che lui ha fatto un po' di roba perché si è importato le cose nuove che gli ha messo. E tu vedi che qui c'hai il modelli, no? Sì. C'hai lo sky, che c'ha praticamente un... il cielo, tutto quello. E poi c'è questo gatto, GD, gatto TSCN. Ok. Quindi adesso, in questo momento abbiamo due scene, no? La main, che abbiamo fatto prima. Sì. E il gatto, che è quello che abbiamo messo dentro adesso. Se facciamo un doppio clic su gatto, vedi che c'è il gatto con la sua telecamera, lo script, è tutto a posto. Sì, va bene. Quindi io pensavo di farvi vedere questo in modo tale da evitare che perdiate tempo attaccato allo script, no? Ok. Ok. Allora, però a questo punto, vedi, dentro il gatto ci sono un po' di cose che ho spiegato nel corso, ma le portate tutte dentro. Cioè, quindi non dovete preoccuparvi. È già messo anche lo script che è quello che fa muovere tutto. Ok. Questo gatto, finché non lo metti dentro il main, no? Quindi questo qui è il main e devi inserire una sottoscena. Cioè, dentro la scena root ci mettiamo anche il gatto. Quindi questa è la scena famosa, no? Dove abbiamo importato prima, abbiamo fatto la mesh, no? Ci mettiamo questo gatto che tu hai aperto lì accanto al main e quel tscn. Sì, sì. Però glielo mettiamo con la catena, no? Gli incateniamo dentro anche. Istanzia una scena come un nodo, cioè praticamente gli aggiungiamo il gatto. Quindi vedi che lui quando clicchi su questo, cioè più crea una nuova scena, no? Invece questo qui collega, no? Sì. E hai cliccato prima scena root. No, io sono sul main. Ah, sei sul main. Poi clicchi il... Quindi io praticamente... Sì, io vado sul main, poi clicco la catena e gli dico di inserire il gatto. Ok. A questo punto lui mette la scena del gatto e poi devo vedere dove me lo sta inserendo. Vedi che la mette in quel posto lì, no? Quindi io lo metto in un posto, cioè quindi uso le freccine e cerco di mettere il gatto in una posizione, diciamo, plausibile. Ok. Quindi per dire... Anche leggermente più in alto in modo tale che magari se... Perché se lo metti in che confligge magari fa stranezza e quindi la metti un pochino più in alto in modo tale che lui cade perché c'è una gravità, no? Lo script. Ok. Lo mettiamo qua. Vedi che c'è il bel gattino che hai già messo. Quindi in teoria adesso una volta che l'hai messo in un punto credibile, no? La scena di per sé è già pronta. Potrebbe già funzionare. Sì. Vediamo un po' se funziona. In realtà vedremo che non si muove ma ti spiego perché. Nel senso che noi facciamo il play di questa scena, il play, lui ti dice manca la scena di partenza, no? Sì. E quindi devo selezionarla e la scena di partenza è il main, main.tscn. Ok. Allora tu gli dici di usare quella, quindi lui fa partire con il gatto lì davanti. E questo gatto, come vedi, già muove un pochino la coda, però se premi W o le freccine non fa niente. Sì. Che era forse anche uno dei problemi che avevi tu. Esatto, sì. Però vedi che ha messo anche lo sfondo. Ah sì, bellino. Ha messo lo sfondo molto bellino. E poi c'è quell'altro difetto che ti dicevo che i materiali sono troppo riflettenti. Ah sì, sì. Però cominciamo, appunto, risolviamo come tutte le cose una cosa per volta, no? Allora, il gatto non si muove per un motivo perché nel... Adesso qui usciamo, quindi facciamo X qua. Il motivo è che lo script del gatto che vi ho messo fa riferimento a delle azioni che si chiamano indietro, avanti, ruota, a destra, a sinistra, che nel tuo progetto non sono definite. Quindi i casi sono due. O vai nel progetto e te le imposti una a una. Eh, l'avevo anche fatto questo. Oppure facciamo un altro trucco, cioè prendiamo. Tu sai come si fa anche in Mac a prendere un sorgente, cioè un testo, un programmino tipo questo e di ricopiarlo. cioè c'hai un editor, cioè sai usare un editor in Mac. Che cosa intendi? Eh, un programmino che ti fa vedere tipo questo. Questo qui è un editor, no? Però in Mac c'è una roba, credo che sia text edit, no? GbProf, tu che usi in Mac cosa usi per editare? Di solito, aspetta, Mac, text editor, sembra che ce ne sia uno di Mac OS. Vabbè, qui ne fa vedere delle cose, ma ce ne sono parecchi di text editor che... Text editor è solo un qualcosa che permette di cambiare un file, cambiando i dati che ci sono dentro. Qui ne presenta un po', però mi sembra che ci sia il... Ah, dice GbProf che lui usa Note. Note cos'è? Un programmino ce l'ha? Ma Note non è del Mac, è un programma in generale, cioè che si può usare sia su Mac. È del Mac? Dice che è del Mac. Mettiamo un po'. Note, Mac OS, Note. Ma è gratuito, no? Ah, for taking, no. Notes for Mac. Notes over. Questo? Vediamo un po' se... Va bene. Ah, è una cosa... Sì, 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 è vero, è vero. Questo qui permette di prendere degli appunti, giusto? Sì, sì, ce l'ho. Sì, sì. Qui, se tu scrivi Note, dovresti accederlo da Mac. Sì, sì, sì. Ok, Notes. Questo permette di aprire un file. Ma questo lo uso perché lo uso questo? Perché apro i due progetti, nel senso che se tu vai nel progetto... Vediamo un po', questo qui è il coso... Perché il problema è che lui qui non ti fa vedere il file di progetto qua. Se no, potresti editarlo direttamente da qua, no? Sì, sì, credo che sia il notepad di Windows. Sì, infatti, sì, assomiglio. Allora, purtroppo il discorso è che loro di per sé non te lo fanno fare perché suppongo che sia complicato. Però per espostare tutto un blocco di configurazione di tasti, all'inizio io gliel'avevo fatto fare a mano anche a GBProf e poi lui si era rifiutato di farlo, no? Ah, ecco, sì, GBProf, lui fa una cosa ancora più profonda che spenditproject.godo. Beh, possiamo anche farlo volendo. Cioè, lui dice, prendo il project.godo dell'altro progetto e glielo metto dentro. E facciamo così. Solo che quando si lavora col project.godo bisogna uscire dal... Cioè, è meglio qui quando sei nel tuo... Aspetta, scusami, Sal, una cosa. Questo script, tu hai detto che non funziona, cioè il gatto non si muove perché deve essere modificato qualcosa nello script. Ma allora, in realtà quello che devi modificare è l'infostazione di progetto e poi qua c'è la mappa di input e qui tu dovresti aggiungere tutta una serie di cose. O usare quelle che ci sono già qua. Vedi che qui ci sono WeUp, WeRight, WeLeft. Sì, sì. Però non sempre ci sono tutti. Ad esempio questo space, no? Che si chiama WeSelect. Quindi in teoria se tu vuoi non modificare questa cosa qua, devi modificare lo script. E laddove qui lui dice di... Aspetta che lo trovo. Gatto, GattoGD, questo qui. Ah, vedi questi qua. Is Action pressed indietro avanti? Sì. Tu, se tu guardi le impostazioni default del tuo progetto, vedi che c'hai queste cose qua. WeAccept, quelle che iniziano con We. Sì. Ah, in teoria basterebbe anche che tu ne scegli alcune di queste. Tipo WeLeft vuol dire freccia sinistra, no? WeRight vuol dire freccia destra. Che vedi che ti fa vedere che WeLeft è associato al tasto sinistra, no? E WeRight è associato al tasto destra. E poi c'è la WeUp, WeDown. Sì. Quindi ti dovresti marcare un attimo queste cose qua e poi fare WeLeft, ad esempio. Prendiamone una, no? Cioè dovrei cambiare invece di scrivere... Per questo qua, IsAction pressed, WeLeft, ad esempio, per ruota a sinistra. Sì. E WeRight. Oppure partire dal progetto che già ce l'ha fatto. Allora, se tu già parti con questi, WeRight e WeLeft anziché avanti e indietro, qui dovrebbe già capire meglio, nel senso che se faccio questo e poi vedi che se premo la freccina, lui la capisce adesso. Non capisce la freccina avanti, quindi dovrei mettere la freccia Ui, com'è che si chiamava, la mia memoria è infinitamente bassa. Sarebbe UiUp, no? Per andare avanti. Quindi per andare avanti dovresti dire avanti e mettere UiUp. E poi qua, per andare indietro, deve essere WeDown, credo. Sì. Allora, anche qui, se rifacciamo questo, allora vedrai che freccia sinistra, freccia destra, avanti e indietro. Ah, ecco, funziona. Vedi? Quindi facciamolo così, così non devi usare notes. Sì, infatti, semplifichiamo. Poi, il salto invece, vedi che non lo fa il salto? Sì. Dovresti vedere dove, quando... Perché lì c'è scritto Alza, e invece... No, dovrebbe esserci un salto a un certo punto, però forse il salto era in realtà da un'altra parte. Ah, salta questo, vedi? Ah, sì, sì. Invece di salta, gli mettiamo... Zampo. No, purtroppo qui c'è una cosa... WeSelect, credo che sia, però lo chiediamo a lui, no, cos'era. Quindi impostazione progetto, mi sembra che ci possono un WeSelect, che era spazio, vedi? Ah. Quindi metti WeSelect che è associato allo spazio. Ok. Quindi se noi mettiamo WeSelect e lo salviamo, dopodiché lanciamo questa cosa qua e qui abbiamo già il minimo essenziale. Quindi sinistra, destra, avanti, indietro, e salta. E poi, se mentre salta e ti muovi con le frecce, vedi che lui si muove. Ok. Vabbè, se già io riesco a fare questa cosa, è un successo. Ma guarda, secondo me... No, nel senso che se... va bene. Sì. Allora... Ma guarda, io cercherei di fare le cose molto smooth, molto semplici, quindi io mi fermerei qua, perché anche il fatto che i riflessi diano fastidio, i colori si perdano, poi li risolviamo, ma prima di tutto vorrei capire che tu riesca a far muovere il personaggio. Ok. E usiamo questo gatto. Poi, di stasera, non ho fatto le prove, quindi non riesco a fare... a fare... a farvi vedere... perché GbProf mi aveva chiesto di fare in modo tale di mettere al posto del gatto un Dante che si muove. Oh. Allora, questo lo farò anche, però non l'ho preparato, quindi per evitare di farvi perdere del tempo adesso voi nella registrazione, che poi diventa un po' lunga, no, lo sospenderei, lo faccio e poi magari faccio un video a latere, no, perché mi sa che devo fare un po' di prove. però secondo me già così tu hai un... hai già un punto di partenza per andare avanti. Vabbè, voglio dire, al posto del gatto, ora, al posto del gatto, qualunque oggetto si crea in Blender si può sempre poi importare lì e quindi... Sì, al limite è una capsula, cioè... Sì, sì. Magari puoi dire non uso il gatto, adesso qui, la cosa carina di questo gatto è che se tu vai dentro la scena che lo rappresenta, quando vai al... Aspetta, c'è questo graphics che sarebbe il gatto, che è una scena, no, che la apro, vedi che nella scena del gatto c'è un animation player e qui ci sono le sue animazioni del gatto che sono fondamentalmente un'animazione idle che è quello quando sta fermo. C'è un'animazione che si chiama jump quando salta e è uno che qui cammina. Questa è arrivata da Blender. Sì, ma queste le avevo adoperate nel primo progetto, non so se ti ricordi quello dell'orsetto e del miele. Te lo ricordi? Sì. Quello che ti avevo mandato, c'era l'orso, il miele in un boschetto, le apine. Ah, sì, se usi un oggetto fisso lo script non funziona più perché lo script... Ma più che lo script in realtà credo che ci sia un posto dello script in cui lui... Se torniamo un po'. Allora, qui c'è un... il gatto, no? E vediamo... Dunque, qui c'aveva... Le due facevano... le getanimation walk. Ecco. E se usi un... Se si usava un oggetto fisso probabilmente vanno in errore questi affari qua. Perché qui sta cercando un'animazione che lo fa. Però adesso cominciamo col gatto che secondo me è già una buona cosa per andare avanti. magari adesso offline quando riesco cercherò di produrre un... O il Dante stesso che dicevamo prima in modo tale che possa essere messo in una scena oppure anche una capsula in modo tale da... Votate per Dante. Tra l'altro Dante possiamo anche vederlo brevemente come viene. Dunque, dove che era il Dante? Me l'aveva scaricato su Facebook? Sì, andiamo un po'. Oh! Devo partire ad abbandonare. Dunque, c'è Annie che manifesta entusiasmo come sempre. Andiamo su... Dove che l'aveva messo? Su Game Coding? Dante solo MOV 1. Quindi provo a scaricare e poi lo lo metto dentro Blender vediamo un po' che cosa c'è. E poi appunto non mi metto perché più che altro open e poi ho fatto di Scarchangers perché non è interessante. Ok, questo qui è il Dante di Jimmy Prof e qui direi che ha messo delle animazioni andiamo un po'. Se riesco a capirci qualcosa quindi questo aspetta come si fa così quindi questo è Dante che cammina davanti e indietro c'era anche altre animazioni oltre a questo o c'è solo questa animazione? ecco questo qui è Dante che va avanti per i fatti suoi tra l'altro ci sono anche le texture qua vediamo beh sì c'è un po' di texture ah e c'è messo anche uno sfondo ah ok beh allora questo dovrebbe essere anche più semplice da da fare l'unico problema è che se vabbè adesso io magari la proverò a fare solo con questa animazione magari visto che ci siamo posso provare anche proprio a esportarlo a vedere come verrebbe cioè se su Godot prende questa animazione oppure no ma Dante l'hai creato con Make Human ma secondo me sì lui è un Make Human dice e poi Blender ma adesso ci sono un sacco di persone che sanno usare Make Human in maniera in maniera incredibile Mixamo è un un altro programma su internet e su internet no che permette di accedere a delle animazioni già fatte che sono credo che ma forse addirittura mi sembra che che GB Prof avesse fatto anche avesse fatto anche un qualche appunto su come usare se non l'ha fatto gli chiederò di farlo sì su Make hai fatto degli appunti sì l'ideale su Make Human e queste cose qua sarebbe io prenderò brincherò Marlou che ha imparato da poco e che ha fatto delle animazioni e magari si può poi fare anche proprio un corso specifico proprio sul su Make Human e l'animazione umana magari gli darebbe una mano anche GB Prof e qualcun altro ah sì bello sentite io farei così per il momento no lo stopperei qua perché sennò andiamo troppo così lo facciamo una serata tranquilla nel senso che l'obiettivo della serata era quello di farti vedere un procedimento abbastanza diciamo certo per cui tu possa mettere un player che sei un gatto GD in questo caso dentro un tuo progetto qualunque progetto in realtà ecco controllando i tasti e controllando anche come il salto e questa cosa qua visto che anch'io sono un po' cotto in questi giorni che vado a Milano eccetera direi che la provvedi appena un pomeriggio libero in questa settimana lo provo e poi ti saprò dire ma sì tra l'altro io lascerò le registrazioni sul facebook così tu eventualmente lo guardi tra l'altro dovrebbe essere vabbè un'oretta ma le parti interessanti sono poco più di mezz'ora quindi forse può essere interessanti credo che abbia visto anche Emanuele non so se Emanuele esiste ancora o se comunque nel caso se poi Emanuele vuole anche lui fare questa cosa e dirmi se magari può ritrovare anche dei sistemi ancora più semplici per farlo tipo copiare questa animazione cioè l'idea secondo me non è tanto quella di diventare degli script io quando ho fatto questo corso non volevo che voi imparaste tutto degli script ma era di darvi la possibilità di fare anche dei montaggi con degli script già esistenti e se riusciamo a fare questi montaggi toccando il meno possibile gli script in modo tale che non vi incasiniate può essere interessante va bene grazie Sol sì allora a meno che qualcuno di voi non abbia una micro domanda per adesso io sospenderei per adesso e poi vediamo se facciamo qualche altra pillola di Godot nei prossimi mesi a me piace sempre molto Godot infatti devo tra l'altro mettermi anche a fare la versione di Godot che funziona in realtà virtuale perché una delle cose che secondo me è più interessante in assoluto di Godot è che in teoria dovrebbe funzionare anche con i visori essendo un programma gratuito per riuscire a costruire tipo questo questo boschetto che hai fatto tu se riuscissimo a fare in modo tale che poi si veda anche con i visori sarebbe sarebbe una cosa veramente fantastica nel senso che tu investi investi pochissimo tempo più che pochissimo tempo pochi soldi energie perché imparare Godot voi lo vedete un po' complicato ma è 200 volte più semplice che non imparare Unity o gli altri programmi professionali sì sì sono d'accordissimo Unity non mi piace invece Godot mi piace molto e poi oltretutto sono 20 mega e Unity invece sono 4-5 giga mi sembra una cosa abbastanza abbastanza brutta va bene allora di nuovo fermo la registrazione appena mi ricordo come si fa stop recording